Ciao ragazzi, un abbraccio da Luca Bluesman. Oggi sono qui per presentarvi la Honor Thunderbird della Marine Band. Un'armonica molto bella, ha un suono molto profondo. La Thunderbird di solito è specializzata per produrre tonalità low, quindi tonalità più basse. Oggi vi farò sentire la tonalità del Fa basso basso. Come avrete sentito è un suono molto ma molto cattivo. L'armonica è fatta in legno, ha un combi legno ed ha una nuova cover, come potete vedere. Molto bella anche dal punto di vista del design. Insomma costicchia un po', però la consiglio perché veramente il suono è molto blues. Ciao e grazie per avermi seguito. Un abbraccio.